Le indrini arruolano ragazzini tredicenni per spacciare la droga in Calabria. È la denuncia che arriva dal procuratore dei minori di Reggio, Roberto Di Palma, proprio mentre a Roma, in Vaticano, si mette sotto accusa la strumentalizzazione della Madonna da parte della criminalità organizzata. Non è un caso che l'Andrangheta abbia proprio come suo simbolo la Madonna della montagna. Il problema delle mafie è di aver manipolato e di aver utilizzato l'immagine di Maria per essere legittimati loro, anche da Dio, da una benedizione divina, da una figura di Maria sottomessa e schiava, come per dire anche voi dovete fare come Maria, la quale benedice noi e ci dà il potere di fare quello che facciamo. Maria non fa questo. Infatti la Pontificia Accademia Mariana ha presentato un dipartimento per studiare Cosa Nossa, Andrangheta e Camorra e liberare la figura di Maria dalle mafie. E c'è da combattere non soltanto per l'immagine della Madonna in Calabria, troppe volte abusata dall'Andrangheta, ma anche di santi, di confraternite, di simboli che vengono puntualmente utilizzati da organizzazioni mafiosi. Il Dipartimento contro le mafie pubblicherà ogni anno a maggio un report sulla diffusione della criminalità organizzata dal punto di vista della strumentalizzazione religiosa, ma soprattutto cercherà di purificare nel mondo ecclesiale tra gli studenti il ruolo di Maria per allontanare le mafie. In qualche caso purtroppo si assiste a una presenza mafiosa che viene consentita, che è tollerata, anzi apprezzata come sostituita dello Stato. E questo non va bene assolutamente, sia perché lo Stato deve svolgere una funzione attiva e deve sostenere la Chiesa nel far sì che, come ha detto il nostro Santo Padre, non può che bestemmiare, è una bestemmia ovviamente quello di fare e svolgere un'attività che è para-religiosa, para-cristiana, ma che con la religione e con la cristianità non ha nulla a che vedere.